Come un alchimista mi sono divertito a combinare stili e generi musicali totalmente differenti attraverso l'utilizzo di micro strumenti, strumenti giocattolo e giocattoli veri e propri. Di fianco a composizioni originali scritte appositamente per questi strumenti troviamo rielaborazioni timbriche di capisaldi della musica classica, jazz anni venti e musica moderna. La scelta del titolo Dada per questo disco evoca diversi scenari tra cui un rimando alla corrente culturale anni venti, dadaismo e anche al mondo dell'infanzia. Dada fa parte del linguaggio della fase neonatale in cui cominciamo a sperimentare, guardare, toccare, sentire qualsiasi oggetto e persona che ci circonda. Il tutto si può riassumere nella parola gioco. Dada è un gioco di contrasti, quel gioco che appartiene a tutti perché tutti siamo stati bambini. Grazie. 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 Grazie.